amici e amiche carissime eccoci tornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato ai vizi alle virtù e oggi vedremo a dio piacendo la virtù teologale ancora della carità che non 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 è mai abbastanza qualche cosa di quello che scrive anche santo ommaso d'aquino su questa virtù e che insegna abbiamo ampiamente visto l'insegnamento del catechismo di san pio decimo abbiamo approfondito all'inizio di questa trattazione di questa virtù l'inno alla carità ecco di san paolo che è un cult diciamo così è un'introduzione obbligata per questa meravigliosa virtù vediamo stasera san tommaso d'aquino che cosa ci insegna vediamo se riusciamo a concludere ad esaurire il discorso sulla carità o se dovesse essere poi necessario un'altra ulteriore un ulteriore puntata allora anzitutto il grande aquinate insegna che la carità evidentemente è la più grande delle virtù ed è anzitutto l'amicizia di benevolenza tra l'uomo e dio quindi evidentemente anche san tommaso accentua la dimensione io ho ricevuto qualche mail a riguardo di persone che mi dicevano non l'ho mai sentito dire che la carità è anzitutto l'amore verso dio ci picchi lo è quindi anzitutto è amicizia di benevolenza tra l'uomo e dio ed è creata appunto in noi da dio affinché la volontà agisca con prontezza e facilità per amore di lui quindi ricordiamo che quando la carità è instillata in noi diventa quella che santo ammaso stesso definisce la forma di tutte le virtù cioè qualunque azione buona io compio c'ho sempre come mira l'amore di dio la faccio per amore suo e per lui faccio qualunque cosa faccio o non faccio qualunque cosa quindi è la più grande delle virtù perché a dio come oggetto immediato diretto no così come l'eucaristia è più grande dei sacramenti perché tutti i sacramenti contengono la grazia ma l'eucaristia contiene l'autore stesso della grazia contiene gesù stesso quindi diciamo che la carità è un po come l'eucaristia la carità con le virtù è un po come l'eucaristia con con i sacramenti no e sappiamo che santo ammaso d'aquina è stato il più grande maestro e indiscusso ecco sulla dottrina eucaristica e che il concilio di trento ha fatto a suo tempo oggi l'avrebbero fatto molto molto prima perché con gli strumenti che abbiamo a disposizione facevano copia in colla mettevano ai voti il concilio finiva due settimane insomma no perché hanno fatto di fatto così solo che non c'era proprio in colla quindi l'hanno dovuto scrivere i documenti no quindi san tommaso ribadisce che la carità consiste anzitutto nell'amare dio con tutto se stessi cioè con la totalità della dimensione affettiva ammere il signore tuo dio con tutto il cuore con la totalità della dimensione intellettiva ammere il signore dio tuo con tutta la mente e con la totalità della dimensione volitiva ammere il signore dio tuo con tutte le tue forze solo dio cifica la quinate va amato in questo modo pieno totale e assoluto e per quanto ci possiamo adoperare e sforzare insegna sempre santo maso è praticamente impossibile adempiere con perfezione questo primo precetto della carità perfino la madonna che è l'unica eccezione perché lei sì che l'ha adempiuto con perfezione ma la sua perfezione è stata una perfezione soggettiva cioè lei ha amato sempre dio e l'ha amato pur da creatura come merita però ha dato il massimo di sé ma è chiaro che siccome anche la madonna per quanto immensamente più grande di noi è seconda solo a dio però in quanto ente creato è comunque limitata quindi le perfezioni di maria sono sono immense ma sono limitate non sono quelle divine quindi neanche lei ha potuto adeguare perfettamente l'infinito amore che dio si merita quindi immaginiamo noi poveri peccatori no è perché è impossibile noi abbiamo adesso se apro una parentesi proprio piccolissima le rivelazioni di gesù alla serva di dio luisa piccarreta che ci dicono che l'unico modo ecco se vogliamo adempiere perfettamente il primo comandamento non abbiamo nessun'altra chance che la divina volontà per chi conosce queste cose ecco però questo è un tipo un ciclo di catechesi diciamo coperto anche a chi non è pratico di queste cose perché bisogna andare a cercare la divina volontà in tutte le cose per renderla al signore perché soltanto cioè di lui è degno di cose al suo livello alla sua altezza e solo la volontà divina ricambia di amore infinito l'amore infinito di dio la nostra cioè nemmeno cioè la madonna andrà molto in alto d'accordo perché fa più di tutti gli angeli santi messi insieme ma tutti gli angeli santi messi insieme non ricambiano adeguatamente l'amore di dio che è che è infinito ecco allora solo da questo primo precetto prosegue san tommaso discende il secondo che è quello dell'amore del prossimo e anche san tommaso d'aquino questa è una cosa che ribadisco perché qualcuno anche anche di questo è rimasto colpito nella puntata precedente perché l'abbiamo visto anche nell'analisi del catechismo di san pio decimo san tommaso sottolinea che l'amore santo di sé cioè l'amore della propria anima viene logicamente prima dell'amore del prossimo ed infatti il secondo comandamento dice amerai il prossimo tuo come te stesso cioè se non ami santamente te stesso tu non amerai santamente il prossimo facciamo subito un esempio l'amore santo di sé l'amore santo di sé vuol dire quello che ci porta alla propria santificazione allora per esempio se io mi amo di amore santo per esempio custodirò il mio corpo nella più assoluta purezza e castità è chiaro che non parliamo di me che sono un prete no? se io mi amo di amore santo se sono ancora non sposato io non farò mai un peccato contro il sesto comandamento col mio fidanzato o con la mia fidanzata perché? perché quell'amore santo che ho verso di me quindi io mai macchierei il mio corpo con la purezza figurati se lo vado a se vado a macchiare quello di un altro e vado a macchiarmi io con il corpo di un altro così ne macchiamo due non lo farò mai capite perché questa cosa viene prima no? viene logicamente prima se l'amore santo di sé significa che la cosa più importante della vita è mettere Dio al primo posto io non lo scandalizzerò mai nessuno non indurrò mai nessuno a a peccare e rispetterò il prossimo come rispetta Dio la nostra libertà eccetera eccetera no? ecco quindi noi amiamo la nostra anima e quella del prossimo e dobbiamo amarla in quanto in essa c'è l'immagine e la somiglianza di Dio e perché Egli le ha create per sé per rendere partecipi alla sua gratitudine attenzione che noi abbiamo un'anima quell'anima c'è stata affidata l'amore santo di sé è l'amore della propria anima e l'amore santo del prossimo è l'amore dell'anima del prossimo come Dio ci ama Dio vede in noi cioè come fa dicevo molti ma come fa Dio a continuare ad amare le persone quando diventano così cattive quando sono dei grandi peccatori e come fa perché il peccato si trova nella volontà ma la nostra volontà non è che la nostra volontà coincide con la nostra anima né tantomeno la esaurisce l'anima è distinta dalla volontà l'anima è un'essenza spirituale uscita dalle mani di Dio la volontà è una facoltà con cui l'anima si esprime ma non coincide con essa e tanto per restare tutte le altre forme di amore attenzione quindi le altre forme di amore quelle che non sono amori santi quindi quelle che raggiungono l'anima hanno il nome di amore ma poco della sua sostanza questo è sempre San Tommaso e questo amore così ci riallacciamo al Vangelo di ieri Dio incidenza comprende anche l'amore al nemico e perché si ama il nemico? perché del nemico si desidera la conversione e la salvezza ho fatto un tweet l'altro giorno ieri proprio su questo e poi postando nel tweet di risposta al mio stesso tweet l'omedia domenicale qualcuno tanto sono pubblici quindi non faccio il nome mi pare di aver letto nei commenti però è difficile amare i nostri politici dico è certo che è difficile però lo diventa meno se uno pensa bene quel politico che magari si comporta male che sta facendo delle cose tanto ingiuste il comportarsi male e fare delle cose tanto ingiuste sono atti della sua volontà sono atti della volontà di quel politico ma quel politico ha un'anima anche se forse come dire la ricoperta di una montagna di coltre uscita dalle mani di Dio Dio quell'anima la ama l'ha creata per sé e se la potessi vedere per come è bella la ameresti pure tu se non fosse purtroppo alterata da quella volontà cattiva ma come c'è essa la volontà cattiva in una persona c'è essa la volontà cattiva se si converte come dicevano nell'omedia di ieri perché allora non è che questo significa che annullare il male oppure farla fare franca ai cattivi no no perché noi li amiamo e preghiamo per loro conversione ma se non si convertiranno poi passeranno per la divina giustizia non è che se la scampano non se la scampano e la divina giustizia in ogni caso interviene anche qualora si convertano perché si convertano ma tutto quanto il male commesso prima della conversione lo devono espiare in terra o dopo la terra questa era la la seconda emelia alcune verità dimenticate non è che se uno si converte dice ah l'ha fatta franca ha fatto ha fatto soffrire così tanto un sacco di gente ah poi si converte confessione e tutto finito no non è tutto finito non è tutto finito perché quello che cioè immaginiamo se Dio facesse che è tutto finito insomma no cioè questo cioè è assurdo perché vorrebbe dire che la giustizia di Dio non esiste che la giustizia stessa non esiste ma la giustizia esiste come sia in Dio che noi in Dio esisterà l'altro in maniera perfettissima quindi altro che ecco oh all'amore all'amore alla carità come insegna Gesù nel Vangelo vanno sacrificati tutti i beni esterni e anche lo stesso corpo come Gesù il segno del Vangelo non abbiate timore di quelli che uccidono il corpo ma dopo non possono fare nulla temete colui che insieme al corpo ha il potere di far perire l'anima nella genna quindi l'amore di Dio e l'amore della propria anima che sono molto molto attigui perché ripeto Dio l'anima la ama l'ha creata Lui cioè è una scintilla sua è una peculiare manifestazione di una sua caratteristica le anime sono tantissime sappiamo nel libro dell'Apocalisse che quelli che andranno in paradiso vedranno cioè io vedranno il loro nome nuovo tu ed io ancora non ci conosciamo bene cioè io non sono attualmente in grado di capire qual è quella particolare bellezza perché c'è ma non è che lo dico perché sono orgoglioso ce l'abbiamo tutti quanti ce l'abbiamo cioè non è un fatto che dipende da qualche merito dipende semplicemente dal fatto che Dio l'ha creato Dio mi ha creato in questo mondo noi non capiremo bene chi siamo lo capiremo nell'altro mondo quindi questo è molto sono sono concetti molto molto importanti perché poi traiamo subito tutti quanti i corollari certo che certe persone ci fanno investialire d'accordo e ci e ci e ci fanno venire nervoso a volte quindi dobbiamo sopportare tanti tanti mali questi però non dimentichiamolo mai sono atti della volontà e negli esseri umani a differenza che nei demoni la volontà può cambiare può cambiare direzione ecco perché i demoni sono tutti dannati ma gli uomini non sono dannati fino a quando non muoiono in stato di dannazione come si dice tecnicamente cioè in stato di nemicizia con Dio con peccati non confessati non pentiti e quindi non rimessi in quanto virtù teologale prosegue sempre nella sua splendida analisi San Tommaso la carità è infusa dallo Spirito Santo e attenzione è infusa nella misura a cui lui piace tutti la riceviamo nel battesimo nel battesimo tutti hanno ricevuto cioè tutte tante le virtù di cui stiamo parlando le abbiamo tutte ricevute nel battesimo così come quando parliamo dei vizi adesso il prossimo sarà la lussuria che è tutte le virtù le abbiamo ricevute dal battesimo tutte e tutti i vizi le abbiamo ereditati dal peccato originale tutti d'accordo quindi ci abbiamo l'uno e l'altro ecco si tratta poi che attraverso le virtù dobbiamo far morire tutti quanti i vizi tutto qua eh quindi allora è vero che si tratta di una virtù infusa prosegue San Tommaso ma come per tutte le virtù questo è un punto che dobbiamo mettercelo bene in testa tutti quanti la sua permanenza crescita oppure Dio non voglia la sua perdita o diminuzione dipende dagli atti che l'anima fa quindi da come l'anima custodisce coltiva ed esercita questa virtù se tu non fai mai un atto di amore di Dio anche un atto proprio un atto nel senso che tu glielo dici o preghi in un certo modo o fai una cosa per amore suo o fai un sacrificio la carità si raffredda come si legge nella Sacra Scrittura l'amore di molti si raffredderà quindi come per tutte le virtù la carità cresce ogni volta che si compie un atto di amore di Dio o di amore santo per se stessi o di amore ordinato nei confronti del prossimo quando noi diciamo per esempio mio Dio io ti amo Gesù ti amo Maria ti amo anche quando dicendo questa cosa non succedesse come San Francesco d'Assisi ogni volta che lo diceva entrava in una mezza estasi quindi anche quando a causa di un momento di aridità o di tante questioni non sentissimo riverberi emotivi o sensibili dirlo aumenta il nostro amore per lui se uno lo dice sinceramente è chiaro che il nostro dire di amo a Dio è sempre un pochino dobbiamo avere cioè sapere che Dio accoglie questo nostro atto nella misura in cui è sincero certamente se fosse proprio un atto palesemente falso ipocrita non lo accoglierebbe però è chiaro che come lo amiamo noi nostro Signore lo amiamo in maniera molto molto imperfetta molto molto limitata per cui gli diciamo Signore mio prenditi il mio povero amore che tu tanto desideri così come è io cerco di dare il meglio di me ma parte il fatto che non si potrà mai dare quello che meriti ma poi io ancora meno ecco dobbiamo sempre avere queste disposizioni sappiamo che c'è stata proprio una piccola parentesi una grande apostola dell'atto d'amore che io me la ricordo quando era serva di Dio non so se la causa di beatificazione si è andata avanti non vorrei mancarle di rispetto che sia già diventata venerabile o addirittura beata no non lo so non ho avuto modo insomma di seguire comunque questa santa suora ebbe al suo tempo dal cielo il compito di far comprendere quanto è importante esercitare questa virtù anzitutto in riferimento all'amore di Dio l'apostola che stava dalla mattina alla sera a fare atti d'amore Gesù ti amo Gesù ti amo Gesù ti amo Gesù Maria vi amo salvate le animi in continuazione ora questa è una cosa brutta cioè constatare come la vita di molti cattolici anche praticanti ahimè è purtroppo a volte molto fredda o quantomeno tiepida mediocre pensiamo che una delle lettere alle sette chiese del libro dell'apocalisse in ognuna di questa per ogni chiesa il signore ha dei ha delle cose belle su cui incoraggiarle e delle cose meno 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 buone su cui riprenderle un po' ad una dice ho da rimproverarti che hai abbandonato il tuo amore di un tempo pericolo questo qui no specialmente per per i convertiti che poi si fanno prendere dagli entusiasmi dei neoconvertiti e poi però dopo un po' mollano sapete io racconto sempre un aneddoto che si legge in un bellissimo testo di spiritualità mariana che è la madre mia del padre Nevers dove a un certo punto lui presta le parole alla Madonna che le dice con dolore sapessi quanti figlio mio in un momento di fervore di entusiasmo mi hanno dato tutto e poi se lo sono ripreso a poco a poco quindi mi hanno dato tutto tutto di un botto e poi piano piano siccome insomma come dire non non hanno agito di conseguenza questa offerta questa donazione quindi non dico ci hanno ripensato ma se lo sono ripreso piano piano ecco la carità quando è coltivata porta necessariamente al fervore e allo zelo cioè un cuore infiammato infiammato non possiamo è chiaro che in certi momenti il nostro signore ci lascia nell'aridità perché deve vedere se lo serviamo lo stesso va bene oppure può succedere ma questo è roba da santi quindi non credo che sia roba per noi che per provarti e per purificarti ti può lasciare anche in tempi molto lunghi come accade per esempio a Santa Teresa di Kakut in uno stato di aridità continuata però non è possibile che stiamo sempre così perché se stiamo sempre aridi e senza fervore e senza devozione e senza un minimo di zelo quindi Gesù ha detto che Gesù è venuto accendere il fuoco sulla terra come vorrei che fosse già acceso quindi se noi non ci siamo accesi questo non dipende dal fatto che Dio non ci vuole accendere ma dipende dal fatto che non ci siamo fatti accendere è un altro discorso quindi ricordiamo cioè che il primo comandamento è sempre il primo comandamento ci sono stati dei grandi santi per esempio è stato San Filippo Neri io l'ho visto con gli occhi miei se uno va a Chiesa Nuova a Roma a Corso Vittorio nella casa dove lui ha vissuto nell'oratorio che ha vissuto fino a qualche anno fa era possibile vedere le camicie di San Filippo Neri che avevano all'altezza del cuore un buco un buco con un alone nero intorno perché gli prendeva letteralmente fuoco e il cuore bruciava la camicia non era una metafora questo qui oppure un'altra cosa che gli è successo è che hanno notato quando era morto uno spostamento delle costole all'altezza del cuore perché a causa dell'ardore della carità verso Dio si sono spostate le costole il suo cuore prendeva realmente fuoco adesso non dico di arrivare a questo questo chiaramente non dipende da noi queste sono grazie straordinarie però attenzione che quando arrivano le grazie straordinarie facciamo attenzione a un'altra cosa cioè le grazie straordinarie che ogni tanto Dio manda e che non è tenuto a mandare a nessuno neanche al più grande santo del pianeta Terra perché sono sempre completamente gratuite però come insegnano i maestri di spirito noi non dobbiamo chiederle non dobbiamo cercarle non dobbiamo desiderarle né volerle però cioè San Filippo Nero ha vissuto queste cose quindi che gli ha preso fuoco la camicia che gli si è spostata la costola perché prima che questo accadesse già vivendo in maniera ordinaria nella carità ricevuta attraverso il battesimo e certamente lo amava il Signore con tutto se stesso perché non è che ti prende fuoco il cuore se tu sei tiepido non ti prende ti prende fuoco il cuore se il nostro Signore è su un tuo fervore già vivo certamente originato sempre dall'azione della grazia perché non sono cose che possiamo darci da solo ma comunque noi ci dobbiamo lavorare sopra dobbiamo corrispondervi no? su questa base si è come dire poi andata a innestare la grazia soprannaturale San Filippo Neri per esempio ce n'aveva un'altra ancora nel senso che quando faceva la comunione ci metteva un sacco di tempo a farsi la comunione a quei tempi veati loro si celebrava molto spesso e volentieri da soli che per un sacerdote insomma che ci crede e che ama un po' il Signore non è una cosa brutta è una cosa bellissima celebrare da solo la Santa Messa in modo tale che ecco ci sono tempi e spazi che non è possibile prendersi rispetto a quando si celebra in pubblico insomma lui andava un pochino oltre nel senso che per fare la comunione alcalice ci metteva un sacco di tempo perché aveva il dono straordinario di sentire non semplicemente il sapore dell'accidente del vino ma del sangue di Cristo ma tra l'altro cioè non dobbiamo immaginare perché il sangue di Cristo chi l'ha percepito Santa Margherita Maria della Cocca ne sapeva qualcosa non c'è il sapore come dire come se ci bevessimo il sangue vivo nostro che il sangue certamente non c'è un buon sapore proprio il sangue vivo ma è sangue vivo con sapori del tutto soprannaturali insomma quindi chi l'ha vissuto sono dei mistici godimenti non indifferenti a certamente questi mistici godimenti certamente ripeto non possono essere pretesi né chiesti né desiderati nessuno di noi deve pensare che lo riceverà mai noi dobbiamo ritenerci più indegni di tutti che già è troppo almeno parlo per me che già è troppo se ci salviamo se non ce ne andiamo all'inferno figuriamoci se possiamo pensare a queste cose però dobbiamo anche pensare che sicuramente sta tranquillo che nessuno sentirà mai il sapore del sangue di Cristo se come dire disprezza l'amore di Dio e disprezza Dio per andare appresso ai piaceri bassi mondani quindi questo cioè non c'è non c'è non c'è legiamocelo completamente proprio dalla 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 testa quindi mi raccomando ecco quindi quello che noi la nostra vita ordinaria di grazia di virtù dicono maestri di spirito funge da disposizione ad eventuali grazie straordinarie che ripeto fino alla nausea non dobbiamo desiderare non dobbiamo chiedere non dobbiamo neanche cercare dobbiamo ritenercene indegni più di tutti gli altri però il Signore se vuole e poi le fa ma certamente ripeto non le fa se non trova un humus già presente nell'anima no? ancora Sant'Ommaso 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 insegna che la perfezione della carità si manifesta quando l'anima pone tutto il suo impegno nell'attendere a Dio e alle sue cose posponendo a ciò ogni altro interesse e relativizzando tutto ciò che comunque deve fare per vivere in questo mondo questo non riguarda soltanto preti frati e suore questo riguarda tutti è chiaro che dentro un contesto di vita laicale familiare o cose di questo genere parta subito il buonsenso il cervello per comprendere che questo si deve vivere ma certo non lo si può vivere come un monaco certosino quindi la perfezione della carità quando tutto il nostro impegno sta lì il grado comune ordinario della carità dice sempre santo Maso consiste nel tenere il proprio cuore abitualmente in Dio in modo tale da non pensare volere né fare nulla che sia contrario all'amore di Lui questo ci deve stare questo qui attenzione che la carità si perde col peccato mortale così come tutte le virtù e però si raffredda diminuisce col peccato veniale i peccati veniali non possono essere da noi trattati ma il peccato veniale chi se ne importa chi dice questo ha una bugia che se la dico ogni tanto non succede niente succede come? perché teniamo sempre presente questa cosa qui il peccato mortale ti toglie la carità e la grazia e tutte le virtù il peccato veniale non te le toglie ma te le diminuisce e ti porta a lungo andare alla mediocrità e alla dievidezza raffreddandoti non poco e esponendoti al pericolo del peccato mortale o un'imperfezione cioè una grazia non assecondata o una lieve mancanza a qualche virtù non ti fa aumentare il grado di grazia e di carità che quello dovrebbe aumentare in continuazione noi ogni giorno che andiamo a letto dovremmo avere un aumento quotidiano esponenziale perpetuo del grado di grazia e di virtù non sono cose che sono date una volta per tutte aumentano o diminuiscono a seconda di come noi viviamo più tu vivi esercitandole più aumentano meno le eserciti e più la tua testa e il tuo cuore sta altrove come dice Gesù nel Vangelo dov'è il tuo tesoro la sarà anche il tuo cuore quando la carità funziona il nostro tesoro è Dio quando la carità abita in un cuore ancora lo si vede da tre spie inconfondibili dice Santo Tommaso la gioia la pace e la vera attenzione a questa specificazione la vera misericordia quando in un'anima non c'è gioia non c'è pace e non c'è vera misericordia ci può essere la falsa misericordia che è perfettamente compatibile con l'assenza della carità anzi ne è una manifestazione quando non ci sono queste cose si ha un segno inequivocabile di scarsa vitalità della virtù e rogare della carità ora che cos'è la gioia dice Casal Tommaso è quella disposizione di allegrezza abituale e da che cosa è provocata e da che cosa è alimentata dall'amore di Dio e del prossimo lo ami Dio e tu sarai gioioso non lo ami e non lo sarai San Filippo Neri già citato ardente di amore di Dio fino al punto che gli prendevano fuoco le camice sappiamo che hanno verato tra i grandi santi della gioia sappiamo che il grande San Giovanni Bosco amava dire e ripetere che la santità consiste nello stare molto allegri e diceva anche che il demonio ha molta paura della gente allegra attenzione non degli dei gaudenti e degli stolti allegri come li chiamava San Bernardo da Chiavalle Mondani cioè di quelli che ridono in maniera sguagliata di quelli che come dire si avvoltolano nei piaceri bassi che non danno la gioia appunto ma danno i piaceri stare molto allegri è segno di santità il fatto che tra anime anche buone devote si veda sovente quella patina di tristezza non è una cosa che funziona a volte può anche dipendere dal temperamento sono un temperamento molto molto orientato sul malinconico quella c'è proprio la come dire si porta appresso appunto la malinconia come un retaggio semi perpetuo insomma quindi però in linea di massima la gioia è il primo corollario della carità e poi c'è la pace e poi c'è la pace la pace perché la pace viene dalla piena concordia dell'anima con i divini voleri molto semplice quello che dice San Tommaso la pace viene dalla concordia con i divini voleri siamo accordati sulla volontà di Dio quindi facciamo sostanzialmente sempre la volontà di Dio stare in pace quindi c'è pace quando i tuoi desideri le tue aspirazioni le tue scelte i tuoi atti volontari concordano con i divini voleri e quindi poi anche nelle relazioni con il prossimo discordie contese polemiche discussioni via quando si cresce nella carità si impara una cosa questo permettetemi insomma se faccio adesso qui una piccola parentesi notazione da un po' da parroco un po' da persona che anche diciamo parlando con tante anime credo spero dopo quasi quasi 18 anni di ministero di aver acquisito un pochino di esperienza no le discussioni le contese le polemiche i litigi sono ordinariamente da fuggire quando una persona non è aperta all'accoglienza della verità della fede non serve a niente litigare imporre anche noi siamo mossi certamente dal bene ma questo sta sbagliando lo devo far ragionare allora non ci vuole tanto a capire cioè noi non siamo più grandi dell'altissimo noi dobbiamo imitare nel nostro agire ecco perché la concordi quello che fa il padre eterno il padre eterno che cosa fa quando una persona è ostinata che non vuole sentire non è che ci si metta a fare una polemica perpetua serve soltanto ad esacerbare ulteriormente gli animi si ritrae e poi ogni tanto manda un richiamo manda un delicato segnale se lo prende bene ricominciamo il discorso e se non lo prende alla prossima noi questo dobbiamo tenerlo presente dobbiamo tenerlo presente ma mi dispiace prega per la sua conversione dobbiamo anche sempre pensare che non sono le nostre parole a toccare i cuori del prossimo noi non tocchiamo i cuori di nessuno ve lo dico io che sono un povero prete e che quindi sto parlando in continuazione ma io lo so benissimo lo devo fare questo qui perché chi ha voglia di ascoltare una parola ha il diritto di poterlo fare ma so bene ecco che se questa parola produrrà qualche frutto non dipende da me perché se è una parola detta per dritto anzitutto c'è la grazia di Dio che me la fa dire non viene dal mio sacco secondo se qualcuno la dovesse ascoltare ed accogliere vuol dire che la grazia ha lavorato dentro quel cuore e che mentre una persona parla la grazia dentro il cuore dice ascolta questa cosa è vera quindi fa la tua di noi c'è pochissimo se non dobbiamo mettere il nostro pochissimo ma c'è pochissimo è molto imperfetto ordinariamente chi vi parla ne è un campione insomma di imperfezioni quindi ahimè ecco quindi al posto della contesa della polemica c'è la vera misericordia verso il prossimo di cui abbiamo accennato e che cos'è la vera misericordia verso il prossimo questa consiste nella compassione compassione soffrire insieme per i peccati e i mani degli altri vedo una persona che è chiusa la verità è inutile che mi ci metta a fare 300 anni di discussione soffro abbiamo mai pensato al valore della sofferenza soffro ma è una persona che mi è tanto cara è un familiare soffro il doppio è un figlio soffro il triplo è una persona che si comporta male è un ministro della chiesa soffro il quadruplo per quanto mi riguarda e la sofferenza si trasforma in preghiera bella conversione quindi la misericordia vera agisce in questo modo ed è segue sempre San Tommaso quindi la compassione per i peccati e le mani degli altri è proprio l'opposto dell'invidia perché mentre la carità attenzione ricordiamo anche lì l'inno la carità la carità soffre compatendo i mani degli altri e si rallegra dei beni degli altri piange con chi è nel pianto e gode con chi è nella gioia ah invece l'invidia fa esattamente il contrario l'invidia soffre se l'altro è nella gioia gode se l'altro è nella sofferenza è così anziché compatire l'invidia si rallegra dei mali altrui concependoli come beni propri cioè l'altro che se quello soffre per me questo è percepito come una cosa buona proprio siamo proprio agli antipodi della misericordia allora la misericordia vera porta a farsi carica con amore delle misere e delle infermità del prossimo a considerare il peccatore con compassione il peccatore è l'essere più infelice del pianeta terra qui sarebbe se posso fare uno spot da andare a vedere cosa come era il cuore della madonna riguardo la madre della misericordia cosa si legge negli scritti di Maria Valtorta che a un certo punto va in prova ma se dipendesse da te tu vedi misericordia in giro dappertutto però ci vuole pure un po' di giustizia e la madonna dice certo che ci vuole ma a me però quando io vedo un peccatore ma a me fa una pena quella è la persona più infelice del mondo e lo è amici miei anche se ostenta si ostenta benessere gaudi o soldi ecco non lo è campo con i rimorsi di coscienza sta sotto il giudizio di Dio sta privo della grazia che brutta vita ricordate Sandra Mondaini che vita vuota che vuota vita ma il peccatore quella cosa lì e non in termini ironici ecco come in quella simpaticissima attrice ma in termini drammatici se la dice quindi considera il peccatore con compassione perdona di cuore le sue offese fa del bene a chi fa del male ve ne dice maldicenti è longanime con gli ingrati questo è il Vangelo di ieri per i figli di Dio non ci sono altre disposizioni che queste allora se non ci stanno non possiamo ricorrere a autogiustificazioni eppa però minimizzazioni o improbabili difese perché tutti quanti si difendono sempre in continuazione da tante cose no? quindi è necessario esercitare di più e meglio questa aurea virtù poi verificare sempre che non si stia conducendo una vita troppo rilassata nella lotta dal peccato veniale perché il peccato veniale è la morte della carità e alimentarla alla fonte suprema di essa come cresce la carità? la carità cresce tanto quanto cresce il nostro contatto con Gesù Eucharistia la messa la comunione e attenzione l'adorazione il nostro rapporto con Gesù crescerà quando noi impareremo a fare questa cosa qui mi permetto insomma di dire una cosa di dirla con l'autorità che la Chiesa mi ha dato vabbè prima di andare a messa bisogna prepararsi non si può arrivare a messa all'ultimo neanche dice ma sono arrivato puntuale sono arrivato un minuto prima già questo è lodevole perché molti arrivano tardi ma non basta ti devi preparare ecco perché in molte parrocchie si dice Rosario prima della messa almeno mezz'ora può bastare la messa la devi partecipare la comunione devi farla bene con la preparazione prossima il modo con cui ti accosti e poi io di questo non mi stancherò mai cioè non è finito lì cioè l'eucaristia ha tre dimensioni il sacrificio che è principale e che ha la messa la comunione sacramentale l'eucaristia è il cibo della tua anima quindi ricevi Gesù nel cuore ma poi però c'è l'adorazione l'adorazione è lo stare con Gesù specialmente dopo che hai fatto la comunione altrimenti quella comunione resterà senza frutto quanto più ci stai e meglio è dipende anche dal tempo che ci abbiamo non si può terminata la messa scappare fuori dalla chiesa tutte le comunioni che uno fa saranno sempre non dico sterili ma benefici che possono darti da 0 a 100 te ne daranno sistematicamente 2 3 5 non di più non di più bisogna fermarsi bisogna stare con Gesù se non la nostra carità non aumenta qualcuno mi scrive ah nella mia parrocchia finita la messa ti sbattono fuori e chiudono la chiesa allora te metti fuori dalla chiesa te metti in macchina te ne vai a casa ti chiudi in camera quando c'è una situazione di questo genere capiamo sempre un'impossibilità oggettiva ti inventi qualcosa qualcuno gli ha detto sai che faceva San Domenico Savio si metteva il ginocchio sui gradini della chiesa immaginatevi provate un attimo a vedere se in una parrocchia dove c'è lo zelo che è finita la messa bisogna subito che i sacrestani sbattano tutti fuori e chiudano la porta immaginatevi se uno si ginocchia davanti ai gradini davanti al portone e se ne rimane lì mezz'ora a fare ringraziamento immaginate se esce il parro che vede quella scena ma come si sentirà a meno che non è una persona non è un uomo speriamo di no a cui è completamente completamente partita la brocca diciamo non saprei come altro definirlo se dovesse succedere una cosa di questo genere sapete che quel parroco sicuramente si convertirà non lo farà più si sentirà talmente male che non lo farà più capite come come si agisce anche per la conversione del prossimo no prima dicevo l'inutilità delle parole ci sono molte altre cose che sono utili l'esempio l'esempio silenzioso l'esempio silenzioso l'esempio silenzioso è una pratica molto eloquente che non può suscitare perché tu che vuoi cioè io sto facendo le mie scelte io ti rispetto e tu le devi rispettare le mie ma l'esempio una persona mi sbattono fuori bene ce l'hai tu il fegato di metterti in ginocchio davanti al sagrato guardando il portone perché San Domenico dice vabbè che problema c'è ho trovato la chiesa chiusa e che sarà mai tanto il tabernacolo è chiuso ma mi trovo a una distanza un pochino più grande e anziché se c'è una porticina soltanto ce ne stanno due ma Gesù sta qua dentro non è che non ce sta ce sta sicuramente ripeto immaginate una scena di questo genere se il parroco zelante per la chiusura immediata la vede può darsi che rimane come prima può darsi che ti prenda parolacce e ti dice che tu sei matto che sei in talebano che sei integralista che sono queste cose vattene a casa forse ma anche se facesse così sta tranquillo che quella notte non dormirà qualche notte non dormirà perché non può non sentirsi in corpo questo fedele fa quello che dovrei fare io per primo e dare il buon esempio e lo fa in questo modo perché io la caccio fuori insomma capite anche lo stile che noi abbiamo cioè quando si acquisisce lo stile da figlio di Dio non è che l'amore al nemico comporta come dire la rinuncia alla lotta contro il male o alla denuncia del male bisogna vedere come lo facciamo quando lo facciamo ma soprattutto come queste forme diciamo così di reazione di reazione al male sono le più micidiali che del resto sono quelle che ci ha insegnato Gesù no? ora altra cosa insegnata da San Tommaso gli atti peculiari della carità sono tre opere tipiche della carità nella sua particolare ramificazione di amore del prossimo la beneficenza l'elemosina e la correzione fraterna ora la beneficenza come dice il nome stesso beneficenza viene da bonum facere in latino cioè fare il bene e fare il bene qualsiasi tipo di bene a qualunque persona amica o nemica simpatico o antipatica che bene devo fare conosciamo un sorriso io ricordo quando ero vicino c'era ancora bei tempi il maestro unico c'era un maestro maschio alle scuole elementari e chi se nasconda questa cosa qui ci aveva insegnato una poesia di un poeta insomma cos'era un poeta francese un noto personaggio che era Raoul Follerot ma me la ricordo sono passati quasi 50 anni ma me la ricordo a memoria ancora adesso un sorriso non costa nulla e molto produce arricchisce chi lo riceve senza impoverire chi lo dona non dura che un istante ma nel ricordo può essere eterno nessuno è tanto ricco da poterne farne fare a meno e nessuno è così povero da non meritarlo questi sono stracci di questa poesia sapete che significa quando incontriamo una persona a sorridergli e lasciamo perdere di quello che ci hanno fatto fare da due anni a questa parte attappandoci la bocca e togliendosi la possibilità di sorridere vabbè pazienza il sorriso è una cosa stupenda bellissima perché il sorriso è un atto di amore il più bello il più bel complimento che ci possono fare che non è per un complimento vuol dire che stiamo messi bene ti vedo sempre sorridente mai col muso ti avevamo mai pensato a questo qui un sorriso un favore fare del bene un favore una cortesia una parola di pace un incoraggiamento una qualunque gentilezza qualunque gentilezza il garbo la fabilità il sorriso la gentilezza la generosità no? sono atteggiamenti che non possono non trasparire quando la carità vive in un'anima se non ci sono o la carità c'è poco o qualcosa comunque non funziona ripeto garbo affabilità sorriso gentilezza generosità pensate ai comportamenti diciamo così e questa questa va come dire va mantenuta e conservata anche quando viene messa a dura prova ecco da situazioni o da comportamenti che farebbero saltare il sistema nervoso a qualunque essere normale un figlio di Dio per quanto mi riguarda non può mai scendere abbassarsi a certi livelli le grida gli insulti la discussione pensate ai talk show che fanno in giro adesso parolacce volgarità non c'è niente di soprannaturale non c'è niente che sia proprio di un figlio di Dio è inutile dire quando ci vuole ci vuole qua a destra a sinistra io per quanto mi riguarda preferisco sempre a tenermi ad un criterio sono stili che abbraccerebbero Gesù e Maria punto interrogativo farebbero quello che sto facendo perché nel dubbio poi uno va sempre a finire lì se uno in coscienza può dire beh ma nostro signore manderebbe a quel paese qualcuno se uno in coscienza può dire questo qui in coscienza lo dica se crede io in coscienza dico ma non esiste proprio ma è manco morto però se qualcuno pensa in coscienza questa cosa qui nostro signore l'avrebbe potuta fare poi insomma se ne accorgerà quando andrà dall'altra parte no? ecco invece poi ci sono le opere di beneficenza classiche che sono le sette opere di misericordio corporale e spirituale prima che le enuncio ce le ricordiamo questo dobbiamo ricordarle non soltanto per ricordarle a memoria a pappagallo d'accordo perché dice ma io non non si studia il catechismo a pappagallo sono d'accordo anch'io però la conoscenza è necessaria perché se io non le conosco poi non non le faccio allora dar da mangiare agli affamati è un'opera di misericordio corporale così come dar da bere agli assetati vestire gli ignudi ospitare i pellegrini visitare i malati e i carcerati e seppellire i morti sei le troviamo nel Vangelo di Matteo per la sostituzione universale la settima si trova nel libro di Tobia che faceva questa opera del seppellire i morti e poi sono quelle spirituali insegnare agli ignoranti ammonire i peccatori perdonare le offese consolare gli afflitti consigliare dubbiosi sopportare pazientemente le persone moleste pregare Dio per i vi e per i morti ora la legge del cristiano noi non ci accontentiamo di non fare il male ah padre io non faccio niente di male a nessuno e con questo questo non è il Vangelo tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi fatelo a loro ha detto Gesù non ha detto non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te che è il proverbio popolare le offere di misericordia ci spronano e ci e ci inviteranno ad agire in continuazione noi dovremmo cercare di di avere un palmaresse capito tra atti di amore di Dio e fare cose fatte per amore suo sacrifici con tutto quello che vogliamo e per amore del prossimo dovremmo avere un autotreno di opere buone un autotreno fare sempre il bene quanto più possibile quanto più spesso possibile a quante più persone possibile sempre da un bosco questo l'amano sempre a dire fate del bene fate del bene fate del bene ecco molto molto importa ancora imparare quando si fa l'esame di coscienza non soltanto a dire che cosa ho fatto di male ma cosa non ho fatto di bene che avrei potuto fare anche se non l'avrei dovuto fare quindi che non è oggetto di un comandamento ma l'avrei potuto fare e non l'ho fatto è meglio che ci fermiamo perché siamo quasi arrivati ci manca ancora qualche straccio vedete che San Tommaso fa delle analisi abbastanza approfondite e quindi ci manca ancora l'elemosina la correzione fraterna e poi i gradi della carità e poi alcuni vizi opposti alla carità insomma queste altre forme quindi ci prendiamo una piccola appendice anche lunedì prossimo dove dovremo concludere questo splendido a mio avviso splendido perché non per chi evidentemente parla ma perché la carità è splendida in se stesso quindi è magnifica e quindi ringraziamo il Signore per questa bellissima virtù chiediamogli la grazia di poterla vivere e praticare sempre più e sempre meglio do la mia benedizione e appuntamento alla prossima settimana Dio vi benedica e la manonna vi protegga